Crentino di altre storie. Ho detto di Frentino. Quello che ho detto agli altri in cima Frentino scusatemi ma io non lo posso garantire perché non ci stavo. Sta scritto che ho visto forse per fare poco di reclamo a Frentino gli va dicendo se tu ora usano poco la capoccia a Frentino d'Italia eccetera eccetera. Ancora ora non si muove foglia allo si era e allo si è rimasto. Che gli altri che diceva Frentino è nel paese ridendo e io dico solo quello ci è rimasto. Ma forse ridi perché vedi che gli altri paesi che ci stanno intorno casaccini non potrebbero fare qualcosa per gli abitanti e può far ridere meglio nel paese se? A si è si può fare. A come diceva un altro. Non c'entra niente. Ma questi amministratori che otteniamo e che siamo tornati questa è la propria punnelli. Frentino 10 ottobre 2003 che si può fare. Grazie a tutti.